Anima Golden vedrai Anima Golden sarai Anima Golden per sempre insieme Ciao Anime! Ormai 2015 è finito, sta per iniziare un anno nuovo. Abbiamo pensato quindi con gli amministratori del gruppo e i nostri cagnoloni di farvi gli auguri in video. Ovviamente mi scuso perché avrei voluto coinvolgere tutti ma saremmo arrivati a farvi gli auguri nel 2020. Diciamo che quando si arriva a fine dell'anno si fanno un pochino le somme di ciò che si è realizzato e devo dire che quest'anno dal punto di vista di Anima Golden è stato molto fruttuoso. Abbiamo fatto molti eventi con i quali abbiamo raccolto fondi per i cagnolini più bisognosi e meno fortunati. Abbiamo dimostrato di essere una meravigliosa famiglia che si dà sostegno, che ride insieme, si sa divertire ma sa anche pensare alle cose serie. Neaple stai qui che dobbiamo fare gli auguri. Ecco brava! E quindi vorrei iniziare l'anno nuovo prima di tutto ringraziando di cuore tutti gli amministratori e tutti coloro i quali mi hanno aiutata e sostenuta durante l'anno nell'organizzazione degli eventi e nella gestione del gruppo. E infine vorrei ringraziare tutti voi e soprattutto i vostri adorati dorati per la vostra partecipazione e per me Apple che ha deciso che non vuole più stare nel video ma va bene così. E quindi mi piglio Blake che è rimasto qua e di più facile gestione e vi auguro un bellissimo 2016. Baci anime! Eccoci qua! Ciao io sono Ludovica, lei la odri, no? Vieni qua, vieni qua, la odri, mi dà un bacio, un bacio a tutti, anche Danino, anche Danino, eccolo qua. Buon anno a tutti voi di Anima Golden. Buon anno, buon anno! Ciao a tutti, io sono Stefano e qui con me c'è Kim e c'è anche Alice. Noi vi vogliamo fare gli auguri per un anno nuovo bellissimo nel quale possiamo avere tante cose belle insieme. Ok? Ciao e a presto! Ciao, io sono Monica, la mamma di Furmonti e Ariel. Ciao, io sono Susanna, detta Penelope, sono la mamma di Ulisse e sono qui con Ulisse e Achille. Auguri, dai, insieme, dai! Tanti auguri! Auguri, buon anno Anima Golden! Ciao, noi siamo Elsa, X e Silvia. E auguriamo a tutta Anima Golden un anno da vivere intensamente. Ciao! Buonasera a tutti, siamo io e Ray. Io sono Stefano e sono uno degli amministratori di Anima Golden. Lui invece è il mio Golden che ha circa tre anni e otto mesi. Facciamo parte di Anima Golden da più di tre anni. In questi tre anni abbiamo avuto modo di conoscere tantissime nuove persone, sia qua in zona nostra, che io vivo a Palermo, e sia virtualmente, con i quali abbiamo instaurato dei bellissimi rapporti. Rapporti che si instaurano comunque a prescindere con tutti coloro che fanno parte di questo gruppo, perché è un gruppo dove vige il confronto, dove vige l'amicizia, la serenità. Ed è quello che deve caratterizzare anche il nuovo anno, un nuovo anno fatto di serenità, di pace e di salute, soprattutto per i nostri animali e per coloro che hanno affrontato delle sfide, sperando che il vecchio anno se le porti via. Quindi niente, vi auguriamo di vero cuore un buon anno, da me e dal Rei, che spero vi faccia anche un salutino. Rei, abbaia! Ok, auguri a tutti! e abbiamo deciso insieme agli altri amministratori di Anima Golden di farvi gli auguri in video in sempre in instinto. Aspetta che... Ando vai! Ragazzi, io dovrei fare il video degli auguri per Anima Golden, volete farlo da soli? Ciao! Noi siamo Stefano... No, ferma! No, no, no! Ciao! Io sono Stefano, sono qui con i miei Golden, tutti e tre! No, è mio! Ragazzi! Ciao! Io sono Stefano, questa è Alice, se riusciamo a contenerla e questa è Kim, che ovviamente non si vede. No, no, no! Eccoci qua, eccoci qua, buon anno, io sono Ludovica, loro sono Hortensia e la Odri, buon anno, molto molto brutta questa prova. Ray, intanto facciamo una prova, Ray, abbaia, bravo, ci siamo, seduto, vieni, vi auguriamo un buon anno, che sia un anno, Ray vieni qua, buonasera a tutti, perché Ray non vuoi ascoltare, dai, facciamo gli auguri di buon anno a tutti i tuoi amici, Ray vieni qua. Se te ne rendi conto. Grazie a tutti.